Una calibro 7,65 nell'armadio della stanza in cui giocano i bambini. I poliziotti l'hanno trovata perquisendo l'abitazione di Alessio Pascazio, 28 anni, e un tatuaggio al braccio con il nome di un boss del San Paolo, del quale nipote Pascazio però non è mai stato coinvolto nelle indagini sui clan. Lui era ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio. Quando gli agenti della mobile sono entrati nella sua abitazione al San Paolo hanno trovato la pistola con tre cartucce nel caricatore nella stanza dei bambini. Il 28enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco e ricettazione perché la pistola era stata rubata 5 anni fa a Noi Cattaro. Le perquisizioni sono scattate all'alba al San Paolo ma soprattutto a San Pio, il quartiere in cui venerdì scorso è stato gambizzato un 43enne. A fine luglio c'era stata un'altra sparatoria, frizioni nel mondo dello spaccio, ipotizzano gli investigatori, e così via della solidarietà e le stradine limitrofe sono state passate al setaccio da 50 poliziotti con unità cinofile ed elicottero. Una decina ai pregiudicati sottoposti a perquisizioni e controlli per verificare che non avessero droghe e armi e per far capire che non ci sono quartieri di Bari in cui l'illegalità può avere il sopravvento.